Ciao a tutti, oggi vi devo consigliare un libro folle, che però ho adorato leggere. Ero completamente inchiodato alla lettura, ridevo a crepapelle ad ogni pagina. Ovviamente bisogna amare un certo tipo di umorismo, ma lo vedremo dopo. E vabbè, ve ne devo parlare. Quindi nuova puntata dei libri What The Fuck! E il libro, vittima in questione, è Alla Radice, di Mika Luciainen. Non lo pronuncerò mai bene, fatto sta che Mika Luciainen, ma perdonatemi i finlandesi all'ascolto, è appunto un autore finlandese. E questo è il suo primo romanzo edito da Iperborea. Non so se è il primo romanzo effettivo, ma credo che sia il suo primo romanzo tradotto in italiano, effettivamente. Un libro divertentissimo. Io ero piegato a leggere questa storia assurda, grottesca, ma che allo stesso tempo scavava anche, dal punto di vista emotivo, nella mia tenerezza nascosta, diciamo. È un libro che segue la scia di un certo umorismo nordico. Quindi deve piacervi quel tipo di umorismo sottile, a volte surreale, a volte non proprio chiaro, ma proprio perché non è chiaro, fa ridere. Che so, i film di Aki Kaorismaki, o ancora, i romanzi di Arto Pasilin. Se vi piace Arto Pasilin, sicuramente amerete anche questo libro. Un libro che in realtà ha del carattere, ha un forte carattere, e che fa parte tutto da uno stranissimo parallelismo tra la dentatura e la cura dei denti e i rapporti familiari, o meglio, le radici dei propri rapporti familiari. I protagonisti sono sostanzialmente due all'inizio. Pecca è il nostro protagonista principale, è quello che subito ci attira l'attenzione, perché io sono andato subito in empatia con lui. È un personaggio molto particolare e che ha un modo di vivere quasi allo sbaraglio, nonostante sia molto meticoloso in altri ambiti della sua vita. Ad esempio, dal punto di vista lavorativo, su cui mette tutte le sue energie. Pecca è un copywriter, lavora nel settore marketing di una catena di fast food finlandesi, che ho scoperto esistere davvero, e lui è vittima di un cronico mal di denti, insopportabile. Diciamo che non si cura a livello estetico, a livello salutare, anzi vede questa cosa come una zavorra sostanzialmente, e sta attraversando un crollo dal punto di vista personale. Infatti è riduce di un divorzio, l'affidamento dei figli, insomma, non sta vivendo proprio un bel periodo, e in più c'è questo cronico mal di denti. Chi gli cura i denti? Esco. Esco è un dentista, personaggio divertentissimo lui, proprio super finnico a livello di humor. Esco è un dentista, un dentista che subito rimane sconcertato dai denti del povero Pecca, ed è un uomo grigio, rigido, con dell'umanità nascosta dietro alla sua continua ossessione per l'odontoiatria, sostanzialmente. Tutti i dialoghi destinati ad Esco parlano di denti, di cura dei denti, di gene orale, cioè è un personaggio grottesco nel suo essere ligio al dovere, fantastico. E diciamo che i due personaggi si incontrano e avviene un incontro-scontro, perché scoprono di condividere lo stesso cognome. Entrambi non hanno mai conosciuto il padre di origine, e quindi capiscono dopo un po' di eventi equivoci e anche scontri, si rendono conto di condividere anche la parentela, cioè loro sono fratelli effettivamente, e quindi decidono di intraprendere un viaggio sgangherato, on the road, attraverso più paesi del mondo alla ricerca del padre. Vanno in Svezia, vanno in Thailandia e finiscono nell'Australia degli aborigeni, in questa grottesca avventura dove, più che il padre, ma non vi dico se lo trovano o no alla fine, trovano continue nuove parentele, parentele assurde, parentele che sembrano non avere alcun legame con la fredda Finlandia, e che invece sconvolgono ulteriormente la vita dei protagonisti. È un libro che fa dell'humor assolutamente il suo motore d'azione, e che soprattutto è una riflessione molto bella anche sull'accettazione del diverso, sostanzialmente del fatto che non esiste effettivamente una linea di demarcazione tra noi e gli altri. Noi siamo uniti con tutti gli altri, no, sotto un certo aspetto, e nel trovare continue parentele lontane, parentele a volte anche assurde a livello di carattere, non solo di provenienza, rende il tutto affascinante. Una famiglia che sembra non essere una famiglia, e che in realtà si compone arricchendosi l'uno con l'altro. E quindi Pecca raggiungerà maggiore maturità, Esco raggiungerà invece un modo più semplice di godersi la vita. E non vi dico per gli altri personaggi, perché non ve li svelo, ma tutti comunque attraverso una sorta di cammino di formazione molto importante, attraverso questa rete di affetti che si creano. Ed è interessante il fatto che ci sia questo parallelismo effettivamente tra la famiglia, la creazione della famiglia, e il dolore ai denti. Perché comunque il dolore ai denti che prova Pecca, in un certo senso, è dovuto a una completa distruzione della sua identità personale, di persona effettiva. Un matrimonio fallito, una famiglia che non ha mai avuto. E quindi le sue radici sono dolorose, sono piene di dolore. Ed è questa la cosa che mi piace un sacco della letteratura nordica. Il fatto che molto spesso si adopera l'umorismo per rasentare, a volte sotto pelle, altre volte a modo più esplicito, dei temi fortemente profondi, malinconici, anche scomodi. E proprio, si fa proprio il parallelismo a livello anche di immagine tra le radici dei denti infiammate e le radici familiari, le radici che compongono la persona che sei. E se ti mancano, e mi è venuto in mente l'acidi starnone da questo punto di vista, cammini storto, hai una vita storta. E quindi da una parte abbiamo un esagitato che butta se stesso nel lavoro, ma allo stesso tempo perde il controllo su tutto il resto. E dall'altra parte abbiamo un'altra persona che ha fatto del suo lavoro una sua ossessione, ma che ha eliminato tutto il resto. Quindi non manco ci ha provato a mandare avanti la propria identità di persona. Si riconosce solo in quello che lo fa star bene, in quello che gli ha dato la possibilità di spiccare all'interno della comunità, del suo paese. È un libro folle, molto originale, sregolato. Se vi piacciono i libri un po' over the top, un po' strambi, quei, proprio che, non lo so, se vi piacciono i film indie che parlano di questi viaggi di freak o di emarginati alla ricerca di se stessi, questo libro lo adorerete. Ed è un libro veramente divertente, molto semplice da leggere, molto veloce da leggere. Naturalmente vi deve piacere quel tipo di scrittura, quel tipo di umorismo un po' freddo, ma che molto spesso sa toccare la sensibilità che c'è in noi. E quindi niente, questa era Alla radice di Mika Nossiainen, non ve lo lascio qua sotto, comunque come sempre, ve lo straconsiglio, perfetto per l'estate, questo libro, secondo me. Fatemi sapere se l'avete letto, non l'avete letto, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto, vi interessa, non vi interessa. Io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione. Ciao, ciao.